Questo video riguarda i migliori tre reggisella telescopici. Il vincitore della qualità è l'XLCS Pt12. Reggisella telescopico con comando a distanza leva del comando a distanza anodizzata con lavorazione CNC materiale. Alluminio 6061 T6 morsetto sella superiore e inferiore realizzato con macchina CNC spostamento. 0.mm principio di funzionamento. Cartuccia aria-olio, cartuccia sostituibile testa a basso profilo, monoblocco brevettata altezza di installazione ridotta lunghezza, 449.mm altezza regolabile, 150 mm, a seconda della lunghezza dell'albero peso del ciclista, 60-120 kg. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il comblom reggisella. Il tubo del sedile ammortizzato è realizzato in materiale in lega di alluminio di alta qualità, ad alta resistenza, robusto e durevole, non facilmente deformabile, impermeabile e resistente alla pioggia. Il diametro della spirale e le dimensioni del punzone in acciaio incise da strumenti di precisione non sono solo squisiti nell'aspetto, ma anche eccellenti nell'effetto ammortizzante. Il tubo sella della bicicletta regolabile da 375 mm è un cavo del freno esterno, design ergonomico, supporto a molla a spirale per garantire comfort e proteggere la schiena e la vita durante la guida. Il tubo sella della bicicletta da 30,9 mm, 31,6 mm è adatto per biciclette multifunzionali, mountain bike, auto da corsa, station wagon, biciclette BMX, ecc. è fissato con viti e può essere facilmente installato in qualsiasi momento. In caso di domande, non esitate a contattarci, vi forniremo un servizio soddisfacente. Il vincitore del premio è la Aaron Spring Regisella. La comoda ammortizzazione ha un effetto rilassante per la schiena, fornendo un assorbimento ottimale degli urti generati durante la pedalata. Affinché tu possa montare il tuo Regisella nel più breve tempo possibile, abbiamo realizzato dei video di montaggio chiari ed esplicativi, per aiutarti a fissarlo correttamente e garantirti la sicurezza di cui hai bisogno. Il marchio di accessori per biciclette numero uno su Amazon. Le oltre mille recensioni a 5 stelle parlano da sé. Entra anche tu nella grande famiglia Aaron e condividi la tua esperienza d'acquisto con tanti altri clienti entusiasti. Lunga durata grazie ai componenti di altissima qualità e spedizione gratuita dei ricambi, contattaci subito in caso il tuo Regisella debba essere riparato e ce ne occuperemo immediatamente. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.